buongiorno signori allora siamo qui su monopole abbiamo 10 minuti ho già visto di per mille scusate sto facendo pochi video ultimamente ma siamo sotto feste quindi è un po così vediamo un po cosa c'è le tasse ok parto con un per uno easy ok c'è per mille direi subito di iniziare quindi a fare il nuovo evento e nuove missioni vediamo un attimino cosa ci dà ok in 3.000 dati niente mi sa che vado a resettare si resetto anche perché si si ragazzi faccio un piccolo reset subito ci vediamo tra poco vediamo cosa riesco a combinare in 10 minuti devo iniziare anche il torneo e tutto quanto poi vi parlo un pochino c'è anche peg da finire vediamo se riusciamo a finirlo tornammi da cinque minuti e poi le tasse sono comunque tra le missioni più redditizie o zero soldi molto carino da vedere che si riparte da qua ovviamente riprovo un per uno ok andiamo subito a bagare di nuovo poi magari me la gioco un pochino per i fatti miei adesso non prendo niente e magari mamma mia e magari vi avviso quando prendo qualcosina madonna santa vabbè ragazzi resetto e quando prendo qualcosa arrivo ok ragazzi mi sta andando tutto un pochino maligno un po tanto maligno non ho preso nulla finora spero comunque abbiate passato delle buone festività natalizie adesso a breve arriva anche capodanno il cui non penso assolutamente di fare video se cortesemente riusciamo a prendere qualcosa anche una stazione magari in pochi tiri mi andrebbe bene non dico al primo eccolo la però magari al secondo niente devo resettare perché si è buggato ovviamente ok ragazzi una sfortuna in mano non ho preso niente e quasi finito il tempo quindi a questo punto direi di fare un massimo di 5 tiri 5000 dadi e so tanti però speriamo di farne meno prendere una stazione e vedere di prendere altri 5 minuti e anche perché a parte che sono messo in un brutto posizionamento però diciamo in due tre tiri qualcosina potrebbe prendere non dico la tassa ma la stazione cioè guardate che roba niente è impossibile un minuto mi dai un 7 guardate che roba è improponibile giocare in questa maniera vediamo la prigione come va nemmeno la prigione mi dà soddisfazione è incredibile ragazzi non da niente non da assolutamente nulla guardate che roba no mo continuo a giocare voglio vedere fin dove arriva ah aspetta ho preso qualcosa meno male 2000 primi 2000 punti assurdo dopo 6000 dadi certo perché sennò non proseguiamo per niente tanto ora devo giocare a per cento perché ora che mi da tutti i premi ci rifacciamo qualcosina è però dieci minuti vabbè dai sapevo c'era dieci minuti andavo anche un pochino di più calma saperlo prima abbiamo anche altri cinque del torneo nel caso dovessi iniziarlo e corgo e la la che orgoglio mi ha dato assurdo molto buono donazioni non le faccio sempre semplice fatto che adesso che orgoglio magari qualcosina in più ce l'ho ok abbiamo anche iniziato il torneo che sono altri cinque minuti poi ci andiamo vedo di fare riesco se riesco a fare cioè cerco di fare più cose possibili spero vada bene ovviamente no vabbè tanto dovevo ancora iniziarlo bastano i cinque minutini ventiquattresimo con 2000 punti beh perché c'è gente ovviamente che al per mille e aver peso rapine ok un po da dire ho fatti cinque minuti classici 50 monete vanno bene quante monetti ne ho 430 devo arrivare almeno 500 così ho il per cento e cerchiamo di prendere queste tasse adesso dai dai gioco mi ha buttato via tanti dadi niente 8 preciso per schivarla l'abbiamo presa perlomeno 2000 punti in due tiri vanno bene ok 85 monete quindi le abbiamo prese le abbiamo prese molte più del previsto ora si gioca per uno perché qua vicino non c'è niente pila di beni allora ok soldi a profusione dai 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 ok gioca per uno sei va bene dieci peccato per giocare per mille da qua un altro dieci me lo dai non ci credo matto 11 5 va bene dai sono sceso sotto i centomila dadi è da notare questa cosa pure scudo pure batteria scarica ottimo non potevo chiedere di meglio ventisattesimo nel frattempo sempre 200 dadi 50 monete pacchettino blu potresti darmi una carta anche non dorata nuova niente va bene vediamo se riusciamo a fare sette ovviamente no vabbè ragazzi non resetto nemmeno più tanto ben capito com'è l'andazzo oggi è fatti no vabbè un resetto me lo faccio no vabbè un resetto lo faccio ragazzi io capisco tutto capisco buttare dadi capisco che ne ho però veramente dai fare sei tiri e non becca nulla ha perso quasi diecimila dadi insomma gioco dai capito imbastardirsi ma basta dammi un 7 oh è che non voglio essere volgare però finalmente c'era anche gli scudi quindi meglio meglio così ho detto vabbè tanto ci sono anche gli scudi quindi è stato totalmente gratis questo tiro di nuovo che orgoglio quindi ho due orgogli da darvi so che la gente li cerca quindi ovvio rapina quando vabbè meno male che è piccola tutto ciò non mi ha traumatizzato più di tanto perché è stata una piccola rapina andiamo vicino alle tasse a questo punto qua c'è la prigione ma ok a parte che non la prendo ma io mi chiedo perché ma da dieci ora eh pure questo togliamo internet cerchiamo di prendere quanto devo fare sette otto devo fare otto preciso oh meno male un tiro un tiro è andato bene venti minuti madonna santa ok tiro per uno perché eh ok dovrei fare sei va continua per uno mi avvicino alle tasse a questo punto ok affare alla grana facciamoci questo affare alla grana non credo sfrutterò tutto il tempo del per mille perché devo anche fare altre cose tiriamo oh questo è uno spot buono eh questo è uno spot buono mi vado a ritirare anche il premio migliora due edifici lo faccio subito no lo faccio dopo faccio dopo dopo mezz'ora di per mille vediamo un attimino cosa dieci inutile dai tre non me lo darà mai sette scudi dai doppio due che niente c'erano anche gli scudi là eh ci sono di nuovo gli scudi mamma mia undici e mi sa che qua si vado in reset ragazzi come vedete cerco di usare meno il reset però dopo tanti tiri lo uso perché perdere diecimila dati a caso anche no anche perché non avevo nemmeno preso nulla chissà quanto sarebbe andato avanti poi lo spot qui è buono dovrei fare sette quindi che gentile amato sei nove inutile vero esatto cosa accettiamo la stazione dai vabbè una rapina meno male dai magari questa va meglio togliti togliti ho internet attivo e niente riapriamo il gioco vabbè dai due tre tiri le accetto soprattutto c'è una rapina spero che l'esito sia migliore di quella precedente anche se comunque era per uno quindi però spero comunque sia migliore visto che è per mille ora male malissimo eh mi da ok immaginavo mi desse la grande ok vabbè diciamo che è nella norma un tiro così va bene mi dai premi direttamente sapete perché mi dai premi direttamente ve lo dico io perché le rapine sono scriptate sapeva già cosa mi avrebbe dato è una carta nuova dorata no assolutamente no andiamo avanti non è 5 no 9 un bel 6 un 7 un altro 9 spot non bellissimo oh mio dio ok si è tolta meno male 9 inutile 6 inutile se mi dai doppio 2 sarei contento non me lo dai se mi dai un altro 10 9 ovviamente sia mai mamma mia imbarazzante comunque veramente imbarazzante risetto tra un po' chiudo anche il video in secondo piano perché non mi sta dando nulla e mi sta facendo triggerare questa cosa in primo piano invece che devo andare via ho da fare quindi vediamo se riusciamo a prendere gli ultimi premi altrimenti gioco a peg game me ne vado facciamo a prendere due tasse di fila voglio ora sia mai me da manco una mamma mia stessi tiri di prima mi sta facendo fare risetto miracolo della 74esima strada dopo due tiri ovviamente sono riuscito a prendere 2000 e comunque è un tiro perché c'erano gli scudi a questo punto considerato il tempo che ho per 1000 andiamo a giocare a peg e e poi provo a fare qualche ultimo ultimo bug e basta prigione va sempre male quindi va bene averla fatta per uno 1000 monete e vediamo cosa riusciamo a fare dovrei finirlo eh tanto ho anche la batteria scarica oltretutto dovrei farcela eh 10 tiri a per cento non sta andando benissimo però confido confido che che bastino di prendere almeno un jackpot niente jackpot e non so mica se basta no perché siamo arrivati neanche a metà ci sono già a metà deve darmi un jackpot mi sa assolutamente eh si sennò non si fa niente dai dammelo no niente deve darmi un jackpot assolutamente mamma mia questo tiro cioè hanno tolto il bug ma veramente bisogna avere una fortuna per finire questa roba che è metà basta oh non mi ha dato una moneta incredibile eh niente per 10 vai no ma per 10 cosa faccio niente concludo niente a per 10 infatti non mi da punti anche per un jackpot ora sarebbe ovviamente ora me lo da eh sia giustamente va bene non credo di finire a questo punto no non ce la faccio mai vabbè dai comunque mi sono rifatto un pochino i dadi provo a baggare ancora un attimino vedere cosa succede ok mi fermo qua vabbè 4500 dadi non sono comunque male quanti giorni mancano due giorni vabbè ce la dovrei fare per se non mancasse meno dorata ce l'ho già ovviamente provare carte nuove veramente difficile ho trovato tante di quelle doppie anche dorate 10 inutile 8 più inutile mamma mia no ragazzi chiudo qua il video dai resetto chiudo qua quindi ci vediamo alla prossima lasciate like iscrivetevi è andata particolarmente male e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao